L'ematologia è la branca di specializzazione della medicina che si occupa delle cause, le diagnosi, il trattamento e la prognosi delle malattie del sangue sia benigne che maligne e che possono coinvolgere globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, linfociti, la milza, gli organi linfoidi e la coagulazione del sangue. La specializzazione in ematologia si consegue tramite scuola afferente dopo la laurea magistrale in medicina e chirurgia e il superamento dell'esame di stato per l'abilitazione con l'iscrizione all'ordine dei medici. Solitamente viene prescritta dal proprio medico di medicina generale, a seguito di alcuni risultati alterati degli esami del sangue come Abbassamento o alterazione dei globuli rossi, dei globuli bianchi o delle piastrine. Alterazioni dell'elettroforesi proteica. Ingrossamento della milza. La sintomatologia da non sottovalutare e rendere presente al proprio medico di medicina generale per valutare una visita specialistica presso un ematologo può comprendere Stanchezza eccessiva e respiro affannoso Prurito diffuso Ingrossamento dei linfonodi Sanguinamenti anomali Cefalea o colorito rosso Vertigini e stato confusionale Coagulazione eccessiva del sangue che causa trombosi Stai cercando l'ematologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di UMA Innovation